buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi giovedì 14 luglio 2022 sul canale 19 di fanno tv c'è occhio ai giornali che è l'appuntamento con l'informazione alle 7 del mattino siamo in diretta buongiorno e benvenuti anche a tutti coloro che ci seguiranno nel corso della giornata attraverso i nostri canali informativi compresi i social network allora partiamo subito dal santo di oggi vediamolo con il cartello il santo è san camillo dell'ellis bisognerebbe parlare anche di questo santo ma non abbiamo il tempo al momento ma vi invito ad andare su sulla rete per vedere chi è stato san camillo dell'ellis 538 l'alba 20 50 il tramonto adesso invece andiamo a vedere questo anche a beneficio non solo di chi ci guarda abitualmente dalle marche perché nelle marche ci abita e ci risiede ma anche per coloro che sono qui per la vacanza per turismo anche per lavoro e che magari è sintonizzato sul nostro canale le previsioni del tempo per oggi allora c'è poco da dire perché secondo il bollettino della protezione civile delle marche per la giornata odierna vedete la grafica animata sulla costa avremo il sole sulla sulle nell'entroterra in particolare nella nell'appennino avremo un po di nuvolosità ma niente di che insomma domani è la stessa cosa venerdì 15 siamo nel cuore nel centro nel cuore della del nostro di questo mese sarà ancora una giornata calda soleggiata con temperatura addirittura in aumento sabato fine settimana 16 luglio con tante iniziative anche un po in giro nei vari paesi della nostra splendida regione quindi godranno di questa ennesima giornata di caldo e di sole caldo e sole che ci conferma sicuramente anche il nostro marco dai bagnalda ponte sasso siamo a fano vicino fano anzi più a sud di fano buongiorno marco buongiorno a tutti hai fatto i castelli di sabbia stamattina vedo dietro di questa mattina si abbiamo fatto le mucchiettine di sabbia per i bambini così si divertono li annidiamo tutti qua sopra per la felicità delle mamme marco dunque dacci anche tu il bollettino medio di questa mattina insomma di per la giornata di oggi è già adesso una giornata meravigliosa un bel sole che pizzica sulla pelle perciò sicuramente non può non potrebbe andare meglio guarda ecco una giornata che naturalmente anche dal punto di vista meteo marino insomma il mare sarà calmo sarà ecco non ostante la bassa marea che ancora vedo imperversa c'è ma poi nel corso quando è che tornerà su quando è che si alzerà il mare a che ora non verso mezzogiorno luna comincia a tornare a tornare normale diciamo ecco le persone che per fare il bagno devi fare 300 metri senti ma per le persone che vedo lì che che stanno con la testa curva e sono i soliti appassionati che cercano oggetti particolari magari dimenticati perduti anche le vongole semplicemente vongole sì sì le vongole qui vengono i pescatori vongole pescano più loro che le capolare guarda li vedi a uscire con i sacchi proprio che stanno bene tutto l'anno ogni tanto però sbuca anche quello con il metal de te quello che serve per vero esistono ancora sì sì ma questi girano di notte soprattutto perché diversi bagnini non vogliono che vanno a girare perché fanno le buche invece se volete venite pure qui da noi dove esserci una vite un chiodo almeno ci puliscono la spiaggia allora senti volevo chiederti tra le curiosità tra le curiosità la vita del bagnino ok la vita del bagnino c'è anche quella del gestore soprattutto per chi gestisce poi gli ombrelloni deve assegnare ombrelloni a destra e sinistra c'è quello esigente quello che vuole andare in prima fila c'è quello che la vuole in un modo chi la vuole in un altro ecco ma per esempio mi pensavo quando uno compra una casa no si informa solitamente sia chi sono i vicini no giustamente poi di uno deve andarci a vivere quindi uno si informa ma anche per prendere un bagnino scusate un ombrellone stagionale c'è qualcuno che viene lì si informa per esempio peggio a peggio perché a casa meno male c'è una porta e le mura qui invece sei all'aperto c'è il rischio di trovarti l'ex fidanzato fidanzata di fianco perciò noi siamo i confessori ci dicono tutto quello che non vogliono e che vorrebbero perciò cerchiamo di accontentarli poi c'è chi non sta contenta e allora diciamo che c'è lo stabilimento vicino che sicuramente va alla grande quindi praticamente uno viene e dice versante ma chi c'è mi dici chi c'è per favore quanti bambini ma fumano ma fanno le buche sta serino già quando fanno tutte queste domande secondo me tu li mandi al bagnino vicino giustamente esatto decisamente sì 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 c'è posto bene grazie Marco grazie anche per la tua simpatia ci vediamo domani mattina buona giornata a tutti allora iniziamo la lettura dunque dei nostri quotidiani i nostri giornali con il carlino questa mattina il carlino di pesaro abbiamo solo le due edizioni di pesaro urbino non possiamo leggere le altre perché ci vorrebbe una rassegna un po più lunga quindi ci limitiamo ai due giornali chiedo scusa ogni tanto arrivano messaggi arrivano anche segnalazioni da gente che ci guarda da altre province della regione vorrebbero che leggessimo anche dei titoli chiaro quando ci sono notizie importanti anche la cronaca da altre province ascoli piceno macerata fermo eccetera chiaramente ci andiamo ma nell'ordinarietà tutti i giorni ci limitiamo a leggere i giornali della provincia di pesaro urbino dove abbiamo diciamo lo zoccolo duro dei nostri telespettatori quindi il maggior ascolto e allora carlino pesaro cominciamo da questa bella fotografia questa foto notizia che riguarda una fanese una ragazza di 24 anni nel giorno della sua laurea ecco splendidamente diversa qualcuno dirà ma che c'entra splendidamente diversa in che senso perché Rossella ha delle piccole malformazioni alle mani e ai piedi si è laureata con una tesi sulla moda per disabili e il giornale così come abbiamo fatto anche noi qualche tempo fa le ha dedicato una pagina che tra poco vedremo stupro al ristorante invece il titolo d'apertura sei anni di carcere per il titolare che è stato condannato dopo che la sua compagna aveva denunciato le violenze subite nel locale poi altre notizie in prima pagina da urbino no dei laici e dei preti all'unione dell'arcidiocesi poi angoli del centro di pesaro dimenticati la galleria roma tanti annunci ma dei lavori neanche l'ombra e sotto invece lo sport con la vis quindi il calcio, il patron bosco faccia a faccia con i tifosi sabato c'è un incontro e il basket, le buelle, sprint per Robinson e Caralampopoulos sicuramente avrete capito di chi sto parlando andiamo invece sul Corriere Adriatico stop alle strade circuito il comune sempre di pesaro realizza strettoie e rotatorie nei punti più pericolosi è il metodo traffic calming freno anche alle corse sulla panoramica con autovelox e controlli della polizia provinciale mentre a centropagina Minervino nominato segretario dell'autorità portuale ecco l'abruzzese, le marche zitte non hanno nessun rappresentante è una fotonotizia che il giornale ha deciso di pubblicare su tutte e quattro le edizioni poi il vademecum sui vaccini e sulla quarta dose sino quando, inoltre dalla prima emergenza idrica al furlo questa mattina si apre il Pozzo Sant'Anna Terre Roveresche, Ferogna, risaniamo l'ex di scarica meno costi pubblici Carpegna più occupazione con il bike park legato al turismo e poi abusa dell'ex nel locale condannato a sei anni l'uomo gestore di un ristorante è già in carcere alla donna lo legava pure un rapporto di lavoro poi schianto, affano, questa è la cronaca tra due automobili paura anche per un neonato ma allora partiamo da questa notizia comunque bella che riguarda appunto questa fanese di 64 anni che qui vedete invece e vediamo in una fotografia non più a mezzo busto anzi un primo piano ma decisamente quasi a figura intera Rossella Fiorani, 24 anni fanese con la sua tesi di laurea sulla moda inclusiva è un articolo di Tiziana Petrelli lei dice, Rossella dice sono diversa, non per questo sono di meno sono semplicemente unica è nata con una malformazione alle mani e ai piedi una disabilità che non le ha impedito però di raggiungere traguardi significativi in tutto quello che ha costruito e conquistato negli ultimi anni Rossella Fiorani ha mostrato sempre con orgoglio la sua diversità portando avanti una battaglia per l'inclusione se la cercate su Instagram la trovate tra l'altro pubblica anche delle belle fotografie mai volgari per cui ecco direi che si fa fatica veramente anche a vedere questa disabilità diciamo questo problema che ha alle mani e ai piedi insomma questa però ecco tra l'altro Tiziana scrive la collega giornalista del resto del Calino scrive quando nel 2014 partecipò e vinse Miss Fano la giuria e chi scrive ne faceva parte neppure si accorse delle protesi che aveva e la scelse tra tutte per il suo sorriso e la sua grinta allora era top secret prosegue si tendeva a nascondere questa diversità adesso invece la si mostra senza problemi complimenti e soprattutto brava per il coraggio che sia come sia da stimolo anche di stimolo per tutti gli altri è alta pressione cambiamo decisamente argomento abbiamo detto durante le previsioni del tempo che insomma saranno giorni ancora infuocati con temperature in aumento e questo è garantito da che cosa? dall'alta pressione alta pressione africana Marche di nuovo bollente il titolo del Corriere Adriatico di questa mattina parla il climatologo Bisci che dice nelle città di Fondovale si arriverà oltre i 40 gradi da oggi caldo rovente per una settimana e torna l'allarme siccità torna anche se poi in alcune città come per esempio il Pesarese insomma forse non se n'è mai andato questo allarme perché qui è piovuto pochissimo anzi ha fatto proprio due gocce comunque l'articolo di Maria Cristina Benedetti di questa mattina del Corriere Adriatico parla in sostanza di questo problema dell'AFA che ci farà boccheggiare probabilmente perché avremo temperature insomma vicino anche ai 40 gradi come ha detto appunto nei Fondovale nelle città Fondovale si respirerà un po' di più certamente magari in riva al mare questo sì però ecco per chi immaginiamo per chi abita appunto in fondo alle vallate in quelle località che non sono né montane né costiere insomma sono quelle vie di mezzo dove veramente sarà impegnativo allora adesso invece mi contro abbiamo il problema come dicevamo dell'acqua della siccità sempre il Corriere Adriatico con Veronica Angeletti questa mattina ci informa che al furlo siamo sempre nel Pesarese la splendida quella del furlo si switcherà si cambierà si girerà l'interruttore per accendere e aprire il Pozzo di Sant'Anna l'apertura vale 150 litri al secondo Aguzzi dice in tutto assicuriamo una maggiore quantità idrica verso l'acquedotto di 350 litri dunque alle 11 di questa mattina il Pozzo di Sant'Anna al furlo verranno prelevati e saranno rilasciati quindi 150 litri di acqua al secondo in più da immettere nel fiume Metauro lo ha annunciato l'assessore regionale ieri alle risorse idriche e alla protezione civile Stefano Guzzi al termine di una riunione sull'emergenza idrica con il Comitato Provinciale di Protezione Civile in un tavolo tecnico dove c'erano ovviamente anche i rappresentanti dei comuni di Fossombrone Cantiano Cagli e Fano poi c'era la prefettura la provincia il Ministero degli Interni eccetera eccetera un tavolo tecnico ovviamente su questa emergenza idrica che preoccupa non poco i sindaci che già in molti casi hanno come dire hanno già firmato ordinanze contro le cosiddette antispreco che prevedono tra l'altro lo ricordiamo anche delle multe piuttosto salate la cronaca invece ci porta a pagina 7 del resto del calino di oggi con questa immagine chiaramente come dire ricostruita ma che serve per far capire come vedete molto eloquente commentiamo anche le immagini perché no vedete questo pugno chiuso e questa donna che si copre il volto si cerca di difendersi con le due mani è una rappresentazione certamente ma che nella realtà probabilmente è anche più cruente più cruda violentava la compagna nel ristorante sei anni di carcere al proprietario è la terza donna che lo denuncia e ogni volta i giudici lo hanno riconosciuto colpevole dei fatti l'imputato si è difeso strenuamente dicendo di essere lui la vittima aggiunto sono perseguitato per gelosia ed è stato condannato ieri a sei anni di reclusione questo quarantenne ristoratore pesarese è ritenuto colpevole di vari episodi di violenza sessuale in un caso tentata e lesioni nei confronti di una donna coetanea dell'est con la quale gestiva un ristorante e i fatti risalgono al novembre scorso scrive Damiani sul giornale di questa mattina con tutti i particolari da questo processo non ha mai avuto un attimo di dispiacere di pentimento per il male che ha provocato c'è ancora cronaca invece ma torniamo adesso sul Corriere Adriatico pagina 21 sulla cronaca di Fano Osvaldo Scatassi scrive su questo scontro tra due auto durante il sorpasso paura per un neonato e quattro bambini tutti portati al pronto soccorso insieme a due mamme e una nonna nessuno è ferito gravemente ma ci sono stati chiaramente attimi di paura per questo neonato e per altri quattro bambini rimasti coinvolti in questo scontro fra due automobili intorno alle tre e mezzo di ieri pomeriggio sulla statale Adriatica a Metauriglia di Fano questi cinque piccoletti sono stati tutti trasportati all'ospedale in ambulanza insieme con tre persone adulte le rispettive mamme come abbiamo detto e anche una nonna sull'altra pagina invece del Corriere l'autovelox i controlli della polizia e il ritorno degli autovelox su una strada molto trafficata in particolare durante l'estate perché chiaramente già come dice il nome stesso della strada panoramica è una strada che merita di essere percorsa semplicemente per lo spettacolo che offre la panoramica appunto stop alle corse con il ritorno degli autovelox e da domani sul San Bartolo le postazioni estive di polizia provinciale ancora dai giornali Tutor anche qui il Carlino Tutor e polizia provinciale in campo occhio alle multe sulla panoramica saranno rafforzati i controlli della velocità con postazioni attivate da domani fino a settembre poi ancora vediamo la pagina di Fano invece ecco del Corriere Adriatico per parlare di che cosa? Per parlare di del Carnevale il Carnevale fanno nella città del Carnevale i marchigiani lo sanno qualche magari qualche turista che ci segue e qualche persona che ci viene a trovare ogni tanto magari non lo sa ecco però fanno nella città del Carnevale ne ha uno importantissimo d'inverno ed estate ha diciamo fa qualche iniziativa a spot come si dice per promuovere l'edizione principale ora però questa estiva è stata preceduta da una sorta di polemica polemica che era nata dai commercianti che hanno le loro attività lungo il Viale Adriatico dove si svolge appunto il Carnevale e che chiaramente nei giorni in cui c'è la manifestazione è interdetto al traffico e quindi all'automobile eccetera chiaramente chi ha un'attività commerciale ne risente a livello economico perché gira meno gente con le macchine quindi gente che si ferma di meno e quindi gli affari calano e qui era nata un po' una mezza polemica ecco però oggi credo da come ho letto su questo articolo di Massimo Foghetti che questa polemica si sta un po' spegnendo anche perché Sassonia che è appunto il tratto di strada dove ci sarà il Carnevale sarà chiusa solamente per dieci ore tra l'altro dalle sette di sera alle ventiquattro in due giorni il tredici e il quattordici dunque scrive appunto Massimo Foghetti è stato placato il timore nutrito dagli operatori di Sassonia che l'organizzazione del Carnevale estivo contemplasse dalla chiusura di Viale Adriatico nelle giornate a ridosso del Ferragosto con una decisione lesiva delle aspettative aziendali di ristoratori e albergatori che proprio in questo periodo di alta stagione svolgono al meglio la loro attività e insomma poi ci ha pensato Etienne Lucarelli l'assessore al turismo in realtà scrive ancora Foghetti Viale Adriatico sarà chiusa soltanto il 13 il 14 agosto da 19 alle 24 quindi fino a mezzanotte il 15 rimarrà aperto in quanto la festa proseguirà solo in alcune piazze in alcune piazzuole ben identificate e slitta al prossimo anno invece lo spostamento della fiera di San Bartolomeo che dovrebbe emigrare dalla Sassonia a Lido quindi anche questo è un altro aspetto insomma di solito la fiera si svolge quella di San Bartolomeo fine agosto a Sassonia dovrebbe spostarsi a Lido però a quanto pare insomma verrà questo spostamento avverrà il prossimo anno tutti gli altri dettagli insomma li leggerete li potrete leggere sul giornale di questa mattina intanto l'assessore Tien Lucarelli detta la linea soprattutto per quanto riguarda certe manifestazioni il carnevale ovviamente è il fiore all'occhiello della nostra città e lui dice occorre una sterzata la manifestazione deve crescere deve crescere in vari modi il carnevale ha bisogno di una sterzata per accogliere sfide le sfide per andare avanti l'assessore detta il percorso che il carnevale di Fano è chiamato ad intraprendere in vista anche dell'appuntamento elettivo che in autunno determinerà i dirigenti eletti dell'ente carnevalesca sapete che sono Maria Flora Gianmarioli tutto il suo gruppo sono in scadenza già ci sono alcune cordate di alcune persone che vorrebbero tornare alla guida dell'ente carnevalesca tra l'altro a proposito vediamo dov'è non lo trovo più però c'è un articolo dove volevo farvelo leggere c'è un articolo dove si dice che anche l'ex presidente vediamo un po' se è qua no l'ex presidente del Luciano Cecchini che è già stato presidente dell'ente carnevalesca potrebbe tornare diciamo alla guida dell'ente carnevalesca però non lo trovo più non so dove è finito vabbè se dovesse tornare in linea ve lo faccio rivedere allora adesso andiamo invece ad Urbino perché a Urbino c'è stata ieri una riunione una riunione indetta da un comitato pro nuovo arcivescovo che si è tenuta anzi martedì martedì scorso un'assemblea pubblica dopo che era arrivato questo annuncio da Roma dal Vaticano di sopprimere l'arcidiocesi di Urbino e di unificarla praticamente a quella più grande di Pesaro ovviamente questo questo annuncio non ufficiale ma che comunque è trapelato anche grazie a un articolo del giornale insomma ha destato non pochi non pochi malumori molti hanno storto il naso continuano a storcere il naso allora stamattina i giornali raccontano di questo incontro pubblico il primo a dire il vero su questo argomento tra l'altro ha partecipato anche l'attuale arcivescovo che sarebbe teoricamente l'ultimo che la città di Urbino ha l'ultimo della lista ed è appunto Monsignor Giovanni Tani andiamo a leggere velocemente allora c'è il comitato pronuovo arcivescovo Monsignor Tani dice o spine nel cuore ci sono già cento adesioni cento firme per ragioni culturali e pastorali in tanti dicono no all'unione con Pesaro ora invece il resto del Carlino titola la città insorge no all'unione dell'acidiocesi il comitato ha tenuto la prima assemblea pubblica nel collegio Raffaello votando all'unanimità per esprimere la contrarietà di ecclesiastici e laici cioè non solo laici ma anche persone che voglio dire vivono nella chiesa allora sono di chiesa allora tra questi ci sono tanti nomi non nell'articolo di Nicola Petrica non vi leggo tutto ma ecco per esempio il portavoce di questo comitato Giuseppe Magnanelli dice non siamo qui con spirito polemico ma per esprimere contrarietà verso questa unificazione e fornire proposte tese alla nomina di un arcivescovo per la sola arcidiocese di Urbino Urbagna Sant'Angelo in Vado a presiedere questo comitato c'era Luigi Bravi che ha parlato di questo argomento questa terra dice Urbino chiede un vescovo proprio e si tratta anche di evitare un'ulteriore mortificazione ma c'è anche chi tra i sacerdoti ha parlato come Don Fabio Bricca parroco di Borgo Pace che è un piccolo paesino proprio al confine se la strada è quella di una riduzione delle diocesi si deve trovare una modalità che non mortifichi nessuno e anche una questione pastorale perché il vescovo dice questo Don Don Fabio il vescovo deve conoscere le realtà e la presenza di un pastore che conosca guidi e sorvegli il futuro è determinante ma che cosa dice invece l'arcivescovo quindi Tani dice questa spina ce l'ho dentro dal 2013 come dire io sapevo già che la fine della cigliosi sarebbe stata questa cioè che sarebbe stata soppressa perché perché questa spina ce l'ho dentro dal 23 maggio 2013 quando il Papa cioè Francesco davanti a tutti i vescovi italiani a San Pietro disse semplicemente le diocesi sono troppe e c'è una commissione che sta studiando cosa sta studiando ovviamente l'accorpamento come avviene per i comuni sono tanti alcuni sono piccolissimi e questa è la stessa cosa perché Urbino è sempre stata impallinata dice ancora Giovanni Tani ogni volta che si è arrivati a questo argomento in quanto e qui c'è la motivazione vera e propria diocesi piccola con una popolazione piccola ecco questo è il motivo per cui appunto Urbino è nella lista di quelle diocesi che andranno a scomparire perché è una diocesi piccola con popolazione piccola tra l'altro Monsignor Tani dice ha spiegato come si sono svolte le cose nell'ultimo anno gli argomenti che avete portato ha detto li avevo presentati nel maggio 2021 all'annunzio apostolico in Italia tutti quelli che avete detto insomma sono stati recepiti ma la questione è andata comunque avanti come dire ormai il processo di unificazione di riduzione è stato avviato è chiaro che non riguarda solo la diocesi di Urbino è un progetto che riguarda le diocesi nel suo complesso e se cominciamo a creare le eccezioni poi dopo potete immaginare cosa può succedere il pandemonio che può venire fuori perché Urbino sì e gli altri no quindi se si va avanti con una linea si va avanti così e poi ognuno può dire quello che gli pare ma comunque andiamo avanti velocemente perché siamo in ritardo chiudiamo con Alessandro Urbino problemi probabilmente sono anche altri il medico del 118 100 turni scoperti Urbino è sguarnita praticamente ogni giorno nella città feltresca è in servizio solo durante la notte a Urbani invece è presente durante il giorno a Sasso Corvaro manca alternativamente per un totale di 25 volte a Marotta si tocca quota 26,5 l'ultima pagina è quella di Senigallia fondale trappola allarme in porto un peschereccio rientra e si incaglia è tutto grazie per aver seguito Occhio ai giornali l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti a tutti